Le cose non stanno tanto bene. Fa un po' paura, fa un po' paura. Siamo proprio rovinati. A Giuliano basta fare il giro del centro storico e ascoltare un po' di persone per comprendere quanto in materia di civiltà e rispetto delle regole qualcosa stia sfuggendo di mano. Tanti troppi episodi nelle ultime settimane e negli ultimi giorni hanno caratterizzato il centro storico giulianese. Lo scorso weekend una ragazzina di 15 anni ha investito con una minicaro una sua coetanea per poi scappare. E' notizia invece di ieri di un agente della municipale picchiato da un uomo senza patente e assicurazione. Devo parere a me che fanno queste cose, la prima cosa è di trassare la patente e non è già esercita. Secondo me parte dai genitori l'educazione, è la prima cosa. Mentre Piazza Annunziata continua ad essere un parcheggio e corso campano un'esposizione di arredi e materassi, là dove sorge il nuovo parco giochi si sale comodamente con gli scooter sui marciapiedi. E a farlo sono gli adulti. Una volta si pensava alla comunità di Giuliano. Oggi invece no. Un'attenzione in più a questa città ci vorrebbe. Ci devono essere più controlli a Giuliano. Citando Maria Montessori, un pensiero volto al futuro e alle nuove generazioni è impresso proprio su una panchina di Piazza Gravici. Seminate nei bambini buone idee perché anche se oggi non le comprendono sapranno un giorno come farle fiorire. Grazie. Grazie. Grazie.